Benvenuti sul calderone di Sara! Oggi faremo dei muffin alla banana. In originale il loro nome è banana bread. Sono morbidissimi e buonissimi. Come potete vedere per questa ricetta serviranno delle banane molto molto mature. Mi raccomando togliete eventuali parti brutte, dopodiché schiacciatele bene bene con una forchetta. Una volta che saranno ben schiacciate, irroratele col succo di un limone, filtrato. Una volta irrorate le mettiamo da parte e passiamo alla preparazione d'Emplum Cake. Montiamo due uova con lo zucchero molto molto bene. Dopodiché aggiungiamo le banane, l'olio di semi, la cannella e riprendiamo a montare un pochino. Possiamo poi passare ad aggiungere la farina in due o tre volte. E quando sarà ben incorporata possiamo aggiungere il bicarbonato e infine il lievito. Dopodiché, nuovamente frulliamo molto molto bene. Possiamo quindi scegliere di riempire un unico stampo per plum cake imborrato o infarirato oppure fare come ho fatto io tanti piccoli plum cake. Ed eccoli qui pronti per il forno. Andranno cotti a 180 gradi per circa 20 minuti. Mi raccomando attenzione sempre con il forno e a sera. E voilà! Guardate che belli una volta sformati. Sono veramente profumatissimi e morbidissimi. Nel quel caso la ricetta vi fosse piaciuta lasciate un pollicino in su per aiutare me e il mio canale a crescere. Se vi va commentate e se volete iscrivetevi. Nel quel caso vi iscriveste mi raccomando ricordatevi di attivare la campanellina. Io vi mando un grandissimo bacione e spero di rivedervi nel prossimo video. Ciao!